I cambiamenti climatici sulla Terra ci sono sempre stati anche quando non c'era l'uomo, ma oggi ci siamo accorti che negli ultimi 100-150 anni almeno sta succedendo qualcosa di molto diverso. Molti raccontano che Annibale aveva passato le Alpi con gli elefanti, c'è molta leggenda in questo, ma se anche diamo per buono quel riscaldamento, noi sappiamo oggi che quello fu un riscaldamento localizzato, mentre il riscaldamento globale di oggi comprende il 98% della superficie terrestre ed è pilotato dalle nostre azioni, sostanzialmente dalle emissioni di gas serra che vengono dalle combustioni fossili, ma anche dalla deforestazione, da un cattivo uso del suolo, un'agricoltura troppo poco sostenibile e così via. Quindi oggi c'è una crisi climatica perché non è il cambiamento climatico classico naturale che è accaduto nel passato, è qualcosa di diverso, di molto più rapido e causato da noi. Grazie.